E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel, sta e benvenuti in questa nuova recensione. In questo gioco di Spyro 3 vi porgo il mio benvenuto al picco nevoso. Purtroppo questo povero orso polare non sa sparare col cannone. Dovevo incontrarmi con Valde per andare a pescare sul ghiaccio, ma ierino che hanno bloccato la strada e non posso passare. Ho provato ad aprirmi un barco nel ghiaccio con questo cannone, ma spara tutto storto. È tutta la mattina che ci provo e non ha colpito niente. L'orso polare Bob non sa usare il cannone, gli spara tutto storto, non ha colpito un bel niente. Puoi saltare sul cannone e provare a colpire i blocchi di ghiaccio se vuoi, ma ti avviso è molto più difficile di quanto sempre. Vabbè, ma anche se è difficile io ci provo. Ricordatevi di usare questo cannone ragazzi. Voi dovete spostare in su e in giù la torretta e premete cerchio per sparare. Potete anche usare il cannone per abbattere gli avvoltoi. Appena Gabriella sta a vedere un avvoltoio si arrabbia subito, è vero? Mi tocca sempre incavolarmi, tutte le volte che c'è un paragone con gli avvoltoi. Paragonato a cosa? Sei paragonato a cadere in un burrone di oltre 3.000 metri che poi c'è il primo avvoltoio che scende a beccarmi gli occhi? Scusate amici. Sentite che ha da dirci Bob l'orso polare. No, hai distrutto i blocchi di ghiaccio. E la fortuna del principiante. Questo posto sta diventando troppo pericoloso. Se quel figlio di Davio vuole andare a pesca sul ghiaccio dovrà venire lui qui. Capito cosa si deve fare ragazzi qui al picconevoso? Dobbiamo trovare Doug l'orso polare. Ho chiamato questo video come raggiungere Doug l'orso polare. Fate molta attenzione perché ci sono dei nemici pericolosi qui. Ci sono dei topi con le casse TNT. E poi ci sono anche dei Rinoch che hanno delle strane pistole che sparano palle di neve. E non solo. Ci sono anche grossi Rinoch con le piccozze. Questi grossi con le piccozze e con lo zaino. Io voglio fare in fretta ragazzi davvero. Non posso aspettare troppo a lungo e perdere troppo tempo. Purtroppo questi stupidi topi mi colpiscono le casse TNT. Purtroppo Sparks la livellula la perdete, è vero? Non è mai sempre in buona salute. Purtroppo il livello di salute è basso. Voglio fare molta attenzione a quei topacci. Brutti topastri. Poi voglio darvi un altro consiglio. Per guadagnare il trofeo dovete distruggere i blocchi di ghiaccio con il cannone. Devo cercare di fare del mio meglio. Poi questo cannone serve anche per distruggere gli oggetti metallici. Ci penso io a sistemarvi brutti avvoltoi. E la faccio pagare cara. Ma chi l'ha inventata questa pistola che spara palle di neve? Calcosa mi dice che qui c'è da recuperare un uovo di drago. Questo draghetto si chiama Maynard. Dobbiamo continuare a recuperare le uova, capite? Un drago ci ha detto trova le uova e riportacele. Questi stupidi topi non mi piacciono. Io che vado nel picco nevoso e trovo degli stupidi toponi o le casse TNT non mi piace. Io farò molta attenzione ragazzi. Non precipiterò nel burlone perché se precipito nel burlone poi ci sarà il primo avvoltoio che scende a beccarmi gli occhi. Se no mi tocca dire è andata peggio. Quando colpite quell'uccellaccio con il cannone ricevete una gemma. Mi sa che il video giunge al termine ragazzi. Davvero. Abbiamo trovato Doug l'orso polare. Ora ci dà un uovo. Avevo piazzato i blocchi stamattina per arrivare al buco nel ghiaccio prima di Bob. Se vuoi provare a pescare posso prestarti la mia esca. La tua esca. Questo ucciolo di drago si chiama Cep. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Arrivederci a tutti. Potete usarla quando volete la funivia.